What's up coach, ben ritornati da vostro, andrei lì in questo nuovo video, siamo sul secondo trailer di Pokémon Let's Go Evil e Pokémon Let's Go Pikachu per l'occasione ho anche cacciato fuori la mia targhetta con tutta quanta la linea evolutiva di Charmander ora la cosa importante è che ho visto già questo trailer proprio e mi sono subito messo a fare il video e ci sono molti punti che mi hanno colpito e che vorrei trattare con voi, non l'ho fatto col primo trailer e ora invece che abbiamo un trailer più ampio possiamo vedere più cose oltre a quelle che già sappiamo che non c'è più la lotta con i selvatici ma solo la cattura però ci sono molti particolari che mi hanno fatto dire sti cavoli ora non ho potuto provare la demo all'evento di Nintendo che ogni tanto tengono a Milano questi eventi chiusi perciò tutto quello che dirò sarà basato solo su congetture non avendo potuto vedere appunto, toccare con mano ieri Let's Go Pikachu e Let's Go Evil la targhetta la rimetto dentro perché contro luce ok ora possiamo iniziare, c'è tutto quanto, l'audio preciso bloccherò ovviamente i video in alcuni punti per dirvi quello che penso e quello che potrebbe effettivamente accadere poi nel gioco ok vabbè parte iniziamo subito con la città, esplora canto come mai prima d'ora sì praticamente sono sul sito inglese di Pokémon ma fa nulla, andiamo avanti ecco già che possiamo cavalcare Charizard già per me ha vinto tutto quindi a posto così, io lo comprei solo per cavalcare Charizard cavalcare Lapras, anche il suono dell'acqua bellissimo sentite proprio beh prima prima non c'era, c'era solo la musichetta invece proprio il suono dell'acqua senti ok il pigliamoste che manda Caterpie con Pikachu tono shock la cosa interessante a parte Magikarp che salta quindi Magikarp Jump Easter Egg era giusto una battuta? la cosa che mi ha colpito come vedremo appunto fra poco è la scelta dei Pokémon a parte il nostro rivale amichevoli spero sia una battuta anche se però quella maglia e quei pantaloncini attillati stupido sexy rivale mi verrebbero a dire citazione cercherò di non bloccare troppe volte il video ok l'esperto di Pokémon Professor Oak oh questa scena qui, questa scena qui mi ha fatto dire ok noi scegliamo lo starter ma poi esce fuori un Pikachu o un Eevee a seconda della versione di gioco che prendiamo se prendiamo Let's Go Pikachu esce un Pikachu se prendiamo Let's Go Eevee il nostro partner sarà Eevee può essere maschio o femmina, questo sarà casuale spero di no se noi siamo maschio spero ci capiti un Pikachu o Eevee maschio se siamo l'allenatore femmina ci deve uscire spero un Pikachu femmina o un Eevee femmina io spero questo, però la cosa importante è che abbiamo tre Pokéball almeno, almeno tre Pokéball e noi scegliamo una Pokéball ora, non so se il gioco sceglie in automatico in base al cuore dell'allenatore e dice ok scelgo quella al centro e quindi esce Pikachu o Eevee oppure ne possiamo scegliere una qualsiasi però all'interno ci sarà sempre o Pikachu o Eevee io sono più propenso per la seconda ovvero quella che scegli indipendentemente da quale scegli ha o Pikachu o Eevee spero che sia così perché ad ogni modo non ha differenza perché tanto il Pokémon iniziale sarà comunque Pikachu o Eevee in base alla versione perché poi tanto, come abbiamo già letto, è un remake di giallo in parte, al 90% è un remake di giallo e quindi avremmo modo di poter trovare gli altri tre starter in giro per il gioco ce li danno gli altri allenatori una cosa ovviamente già vista e rivista sul Pokémon giallo ok, fai amicista con il tuo Pokémon partner quindi non sarà un Pokémon che potremmo far evolvere però ovviamente possiamo trovarli nell'erba poi Pokémon come Eevee o Pikachu come è sempre stato Pikachu più che altro si ottiene attenzione, questa è una cosa carina il Pikachu Eevee più che altro si ottiene solo uno dal centro di Azzurropoli comunque sì, abbiamo visto personalizza te e il tuo partner è sti cavoli, possiamo personalizzare il nostro personaggio una cosa molto gradita a tutti i fan di Pokémon io personalmente ho giocato molto poco con la customizzazione con la customizzazione non customizzazione, con la customizzazione dei personaggi ho davvero giocato in Pokémon X e Y e anche in Pokémon Sun & Moon Ultra Sun e Ultramoon davvero, davvero poco però Pikachu esploratore è carino ora, la cosa bellissima è lo stile dei capelli se io posso fare Pikachu che ha il taglio di capelli come il Pikachu di Rishi di cui vi metto una foto ora se posso farli in quella maniera wow davvero, davvero wow non ho altre parole andiamo avanti, va ok, viaggia insieme a lui perfetto bella però no ragazzi, il canto è stupendo in 3D io che sono un canto fag per me è troppo guarda che roba bello io amo la regione di canto non amo tanto i primi 151 tanto quanto amo la regione per me i Pokémon tutti quanti mi piacciono tutti ma la regione per me canto è la mia regione preferita ma la migliore secondo me è un'altra però per me la mia preferita è canto e canto qui è più bella che mai è più splendida che mai oh mio dio Arcanine quando ho visto questo ho cacciato un urletto si può cavalcare il fottutissimo Arcanine quando l'ho visto un urletto femminile proprio ho cacciato che bello vabbè il Pokémon che ti trova degli strumenti se mi trovo una ricarica totale io gli dico grazie no oh lei battaglia con il Gym Leader addirittura Brock ha due amichetti lì che lo proteggono prima di arrivare da lui Misty che ha subito un restyle non indifferente anche la palestra molto carina le lotte non sono dinamiche ma sono comunque sia il battle system o meglio la grafica ha subito un restyle non indifferente davvero bello abbiamo un Sensor a 21 lì quindi siamo già una parte avanzata del gioco verso tipo c'è le stopoi almeno la modalità co-op poi non credo che la proverò mai se non per conto mio da solo per vedere com'è possiamo fare scambi oh hai capito scambi online o locale questa è una cosa che mi sembra stata già detta però non c'è la GTS e questo un po' penalizza quindi se vuoi completare al 100% il Pokédex o fai scambi con una persona che conosci che ha un'altra copia ti metti d'accordo online cose così oppure ti compri tutti i due giochi ti compri due Switch e spendi un sacco di soldi per una cosa che poi magari lasci dopo che è finito però ecco fai gli scambi con amici locali oppure online molto carina sta cosa davvero ragazzi il poter cavalcare Arcanine credo sia la cosa una delle cose più belle guardatelo cavalcare Arcanine è bello ma la cosa più bella ancora all'inizio della game del trailer è ovviamente cavalcare un fottutissimo Charizard essendo il mio Pokémon preferito non posso fare a meno di di essere in hype pazzesco giusto per cavalcare Charizard il resto non me ne frega niente io voglio comprare il gioco solo per cavalcare Charizard davvero è wow è davvero davvero stupendo non ci sono altre parole per dirlo e ho letto molti di quelli che hanno provato appunto ieri la demo hanno scritto su Instagram che il gioco è bello vale la pena appunto giocarlo e avendo visto questo trailer si è da provare assolutamente io spero che non mi buttino giù il video se c'è il copyright sulla musica e sulle immagini va bene ma ti prego Nintendo non buttarmi giù il video perché essendo la prima volta che parlo di Pokémon Let's Go Pikachu cioè Let's Go Eevee dopo essermi astenuto dal primo trailer e dalla conferenza che ha tenuto appunto Game Freak a porte chiuse con i giornalisti quel di maggio io davvero ragazzi sono contentissimo di potervi esprimere le mie opinioni su Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee mi è sembrato troppo prematuro parlarne a suo tempo per questo non ho fatto il video ma già la gente ah io non lo compro perché non ha questo perché non ha quello perché non ha quell'altro sì ma ragazzi a parte che i giornalisti su Twitter hanno scritto cose sbagliate la gente ha detto che la gente andava a controllare su Twitter quello che i giornalisti dicevano ma era sbagliato era tutto sbagliato quello che dicevano i giornalisti non puoi basare il tuo pensiero su due minuti di demo che non hanno fatto vedere nulla se non il fatto che tu catturi Pokémon come in Pokémon Go e che combatti con gli allenatori e che ti porti dietro la Pokéball non puoi basarti solo su quello qui davvero possiamo iniziare a vedere Cavalchi Arcanine Cavalchi Lapras Cavalchi Geridos Cavalchi Onyx Cavalchi Già tutto Cavalchi è finissimo è una cosa assurda io non riesco a contenere l'entusiasmo da persona che ha giocato tutti i giochi Pokémon che ce li ha tutti io sono troppo contento per Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee mi sembra di essere tornato a quando avevo dieci anni quando uscirono i primi giochi Pokémon davvero io sono sono estasiato certo poi dopo avendo visto anche la demo che hanno provato all'E3 con la Treehouse mi viene da dire ok puoi passare in mezzo al personaggio secondario quando sei in co-op però si passa avanti a quello il resto ragazzi è stupendo restyle completo delle palestre restyle completo e in attinenza con la serie animata cioè questo Brock è identico a quello che c'era in Battle Advanced e Brock è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti per quanto riguarda la serie animata perché è Brock Brock è Brock non gli si può dire nulla ma io davvero ragazzi poi Misti anche uno dei miei campopalestra preferiti cioè un restyle stupendo in attinenza appunto con anche in parte con con la serie animata ma Starmy Starmy è fighissimo guardatelo è bellissimo vedere questo Starmy in in 3D è bello davvero bello poi ragazzi la cosa che meno mi interessa è il co-op però il fatto che comunque sia anche qui vedete una cosa che mi ha lasciato un attimino perplesso ora qui non capisco una cosa non capisco se sono Pokémon che ci seguono ma penso di sia anche dalle altre immagini oppure se sono Pokémon selvatici che se ne vanno in giro a scorrazzare li liberi per la regione ad ogni modo ragazzi io ve lo dico questo gioco questi due giochi io sono contento che l'abbiano fatti potete dire quello che volete remake di quarta remake di quinta dite quello che vi pare ma ci voleva un remake comunque sia che poi sia di quarta o di prima non ha importanza ma ci voleva per testare il terreno di Nintendo Switch assolutamente la camera poteva essere piazzata un pochino meglio è piazzata tipo alla Sun and Moon ma va benissimo perché Sun and Moon ovvero Sole e Luna sono gli unici giochi Pokémon che hanno avuto una camera decente sul personaggio quindi ragazzi io quello che volevo dire ve l'ho detto tutto quanto quello che volevo dire sono super contento aspettiamo altri trailer spero che Nintendo ti prego non buttarmi giù questo video e scusami se non voglio entrare in partnership con te nonostante io carichi solo contenuti Nintendo all'oggi modo il video termina qui questo è il terzo video di oggi è uscito un po' tardino perché comunque sia l'ho scoperto poco fa io come sempre vi ringrazio vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video e ovviamente il 16 novembre con Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee bye bye